Cirillo e numero 22, Campus, vi do anche Viola che ha battuto adesso il calcio inizio, l'undici isolare sarà Lupatelli, Rodriguez, Pasquale, Roncaglia, Camporese, Cassani, Pizarro, Borgia, Valero, Seferovic, Fernandez e Iaic. Fascia è il numero 3, Mannini, poi il sinistro di guerra, Lupatelli ci mette la mano e salva praticamente la Fiorentina. Finta di Pasquale, destro di Iaic, c'è il luogo della Fiorentina, Adam Iaic porta in vantaggio al 32esimo minuto Ibiola. 33 minuti sul cronometro, alza la mano Iaic, corner sempre sul primo, Seferovic di testa, 2-0 per la Fiorentina, Haris Seferovic. Beh, si scalda anche i gasi, quindi per i curiosi ci sarà un modo di vedere una sorta di esordio sinistro di Lazzari, sotto l'incrocio dei pali, mamma mia, Andrea Lazzari chiude praticamente questa partita al settimo minuto di gioco. Un calcio da rivedere ai replay che in questo momento non abbiamo, ma che negli highlights potete riguardare il sinistro che è finito sotto l'incrocio dei pali da parte di Andrea Lazzari sui sviluppi del corner battuto da parte di Adam Iaic. Bellissimo gesto, regalare la maglia a uno dei tifosi presenti. Andrea, ho appena visto una cosa bellissima, hai regalato la tua maglia a un piccolo, un giovane ragazzo purtroppo invalido su una sedia a rotelle, cose che fanno senza dubbio piacere al di là del calcio. Sì, quando stavo facendo il riscaldamento me l'ha chiesta e dopo la partita allora ho avuto piacere di darla. Senti, parlando di campo, un sinistro che è finito sotto l'incrocio dei pali, una Fiorentina che ha vinto 3-0 e il pubblico soddisfatto. Sì, oggi dovevamo fare più che altro un buon allenamento, penso che sotto il piano fisico sia stato così, poi è venuto anche il gol e siamo più contenti, però dobbiamo lavorare su questi ritmi che vuole il misto. Senti, fisicamente come sta Andrea Lazzari? No, è abbastanza bene, ancora non in forma, però piano piano adesso ci avviciniamo, c'è la Coppa Italia e poi col campionato speriamo di essere in forma. Anche perché l'ultima volta in casa con Novara non finì benissimo, è un modo per rifarsi subito. Sì, sicuramente, ci ricordiamo che già anche l'anno scorso ci hanno fatto patire fino alla fine, speriamo che non sia così quest'anno. Gruppo? Gruppo bene, tutti i bravi ragazzi, ci stiamo amalgamando bene e speriamo bene. Il modulo, questo 3-5-2 di Montella, ti ci trovi? Sì, sì, oggi abbiamo fatto un tempo a test, ci stiamo allenando anche su questo modulo e vediamo come va. Dal gol si dicebbe che ti ci trovi benissimo. Sì, sì, ci si trova bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.